Adesso scaldiamo... Conchè, eventualmente... Presentiamo la band, noi ci chiamiamo Crossfire. Veniamo da un posto lontanissimo che si chiama Limpomo. Dove da tre anni ci iniziamo provando, suonando, arrangiando pezzi per sentirci giovani. Ci piace così. Vi presento la band, il Crossfire, Luigi Colombo on the drums. Un applauso di pallo, ragazzi. Luigi Colombo on the drums. Hola. La mia dolce metà, mio marito, l'amore della mia vita. Il Viga on the bass. Pure qua. Alla chitarra, un uomo molto sexy. Si fa chiamare Riri. Riri. E qui abbiamo un mito. L'uomo suono. The keyboard man. L'unico in cielo. Sancho Giudici. Io mi chiamo Beccia. Di tanto passiamo a tanto passo. Tanto devo passare. So. L'uomo suono. L'uomo suono. L'uomo suono. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti